E' scattata questa mattina una perquisizione della DIA su un mandato della procura di Caltanissetta nell'abitazione dell'inviato di Report Paolo Mondani nella redazione di Report di Sigfrido Ranucci. A Derne Notizia è stato lo stesso giornalista che ieri ha condotto la trasmissione. Il motivo, dice Ranucci, sarebbe quello di sequestrare gli atti riguardanti l'inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci nella quale si evidenzia la presenza di Stefano Dellechiaie, leader di Avanguardia Nazionale, sul luogo dell'attentato. Gli investigatori cercano atti a testimonianza su telefonini e PC. Il giornalista Mondani non è indagato così nella nota inviata nelle prime ore del mattino dalla procura di Caltanissetta a firma del procuratore capo Salvatore De Luca. E la procura smentisce la sussistenza e la veridicità delle informazioni date dal pentitolo cicero sul punto che è stato citato nella stessa trasmissione perché non riscontrate e smentite dagli atti acquisiti. Intanto parla di una macroscopica fuga di notizie il procuratore capo nella sua nota. Il reato che si palesa nei confronti di Mondani potrebbe essere rivelazione di segreto sufficio relativo alla attività di un'autorità giudiziaria requirente.